Ciao ragazze, nuovo video dopo un po' di tempo, torno sul canale, su youtube L'ultimo video che ho registrato, scusate ma c'ho una nuova, sto registrando col telefono innanzitutto Ho comprato quegli aggeggi per bloccarli e non lo so, non mi ci vedo molto perché la telecamera non vuole collaborare E niente, dicevo, è un po' che non registro video quindi magari risulto ancora più impacciata di prima se possibile E niente, dall'ultimo video che ho registrato penso sia quello, l'haul che avete visto prima del vlog, l'ultimo vlog, weekly Mi sono fermata anche con i weekly, aspettate mi sto togliendo gli anelli perché altrimenti si sente il tintinio del cuore A me dà fastidio quando monto il video mi infastidisce E quindi ecco, è un po' che registro video, è tipo quasi due mesi Voglio registrare un mi preparo con voi per fare due chiacchiere così per aggiornarvi anche su un po' di cosine Se vi possono interessare, mi si è aperta la cipria nel... va bene Così vi faccio vedere anche dei prodottini che sto provando, insomma così un po' tutto un fritto misto Allora, ultimamente sto facendo la base con questo fondotinta, credo sia nuovo di Kiko Che è lo Skin Modernist 2 in 1 foundation, fondente e correttore Io ho Neutral 80, non so come funziona col telefono se mette a fuoco E ha questo pennellino, io ne metto un po' intorno agli occhi Un po' sopra e poi ne metto un pochino dove mi serve Perché ho notato che non ne serve tantissimo Anzi, certo, se avete delle imperfezioni abbastanza evidenti, sì, altrimenti con una goccia E lo sto applicando con questo pennello che ho preso da Aliexpress Perché non mi ricordo se però ho detto Ma quando ogni mese ricarico la Paypal per fare l'abbonamento mensile a Netflix Che sto ancora continuando ad amare Ci metto qualcosina in più in modo da comprare qualche stupidaggine su Aliexpress, insomma Una dell'ultima volta che ho preso questo pennello Ho cercato tipo pennello, trucco, vale, non mi ricordo Comunque si trovano dappertutto E ho trovato questo per tipo 2 euro E mi è piaciuto tantissimo, è morbidissimo Poi è molto flessibile, vedete, quindi veramente sfuma benissimo il fondotinta In maniera molto semplice Quindi niente, mi piace Lo sto utilizzando sempre perché mi metto lì, mi faccio tipo un massaggio Mi piace, io ho anche questo piccolino che non è lo stesso marchio, credo no Questo che ho io è, questo grande è Abody si chiama, spero si veda Mentre questo piccolino è Full John Però questo è troppo compatto, si porta via il prodotto Mentre questo è più morbido e lo sfuma Quindi ecco, se vi devo consigliare prendete questa marca Perché almeno in questo periodo di assenza E qua ho il collo rosso, non so per quale motivo, vedete, sono molto rosa Non so perché, però vabbè Comunque Vado a fare un trucco proprio semplicissimo Volevo fare questo video più che altro per chiacchierare un po' con voi Perché la tante non ne facevo Prendo la Urban, questa qui la palette The Fan Palette di Urban Decay E vado a prendere con il dito Sin Che si trova anche nella Naked Sì, nella Naked E lo metto sulla palpebra mobile Cosa è successo in quest'ultimo periodo? Il tirocinio sta continuando Ho finito, diciamo, il primo semestre E sono entrata nel secondo E quindi tutto procede alla grande E ho un umore un pochino traballante Ultimamente Mi sono resa conto che Non che dovessi migliorare il mio umore È andato un pochino più in giù Ecco, mi sono resa conto di questo Anche forse perché durante il tirocinio Magari sento delle storie che Insomma, le sento un po' troppo vicino a me E quindi qualche giorno fa Non mi ricordo Forse una settimana fa Sono, non dico crollata Però insomma Ho ceduto un po' E quindi ho deciso di andare a prendere Ho preso appuntamento per andare da uno psicoterapeuta Per vedere se Primo perché comunque mi interessa andarci Per vedere se Sto cercando di prendere questo qui della Nix Ho comprato Che si chiama Tope Che è un blush Ma mi piace anche sugli occhi Questo pennello di Essence Lo metto nella piega Per vedere un po' Se ne ho bisogno Per elaborare meglio la cosa Perché i primi tempi È stato molto più semplice Ora la mancanza si fa sentire Quindi Sono proprio crollata quel giorno E ho detto Non va bene così Non posso continuare così E quindi proviamo a farci dare una mano Perché no Si stanno apposta È quello che voglio fare anche io da grande Figuratevi E niente Quindi sono già andata Ho fatto Oggi è giovedì ieri Ho fatto la prima visita Mi sono trovata bene Insomma abbiamo Più oltre una visita conoscitiva Perché appunto era la prima volta E quindi niente Ho appuntamento per la settimana prossima Ho detto all'inizio sarà una volta a settimana E poi si Poi si andrà Si andrà avanti O comunque Quando sarà opportuno Ci saranno meno visite Concentrate Ecco Magari una ogni 15 giorni Quindi Vediamo un po' Come va Se funziona Comunque Ci proviamo Ecco voglio provarci Perché non è stato proprio un periodo Però anche con questa cosa Che comunque mio padre sta ancora Non so se vi ricordate L'ho detto nel vlog Sta ancora da matrice Cioè vicino a matrice A Torrita Credo si chiami E dovrebbe tornare questo weekend Perché metto anche un po' di nero opaco Nell'angolo esterno Perché appunto Da come ho capito Dovrebbero proprio smantellare Del tutto le tende lì Perché penso che ormai Arriva il freddo Quindi non posso Non stare lì Non l'ho ben capito E quindi comunque Deve tornare fisso qui Però è stato praticamente Da quando è successo Questa cosa orribile La cosa orribile del terremoto Perché Solo che orribile Si può definire Lui ha fatto Prenta avanti e indietro Ma è stato qui fisso Solo tipo quattro giorni In un mese Quindi Anche quello Forse mi sono sentita Un po' troppo No abbandonata Caricata di No di responsabilità Però insomma Alla fine ho dovuto pensare Qui a casa Forse non ero pronta Semplicemente A trovarmi Non da sola Però insomma A gestire le cose di casa Ecco io non ero pronta E bene o mai Se c'era mio padre Comunque ci Scambiavamo Così mi sono trovata Un po' così Fai la spesa Pulisci tu Cioè Non ve lo so spiegare È proprio È stato un insieme di cose Che secondo me Mi hanno proprio buttata giù E piano piano Una prova a ritirarsi su Piano 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 E vabbè A parte questi discorsi Così Melodrammatici Che come sono diventata Melodrammatica Ultimamente Cose belle Perché Il psicologo Mi ha detto Devi guardare Le cose belle Perché poi Gli ho detto Mi piace truccar Mi piace il trucco Ecco allora Da come ho capito Mia moglie Mi ha detto Che esistono Il trucco I punti di luce E i punti d'ombre Fatto Il contouring Ecco Tu devi guardare La vita così Tu adesso guardi Solo i punti d'ombre Invece devi guardare I punti di luce Quindi Parliamo di cose belle Oddio Non so quanto sia bella Però vabbè Ho preso appuntento Dalla dietologa Il 6 ottobre Quindi Ok Sono ancora a dieta La sto seguendo da sola Quella che mi ha dato Anni fa Non so se vi ricordate Chi mi seguiva Magari se la ricorda Metto un po' di maldita nera sotto Mi ha fatto perdere 20 chili Mi ha fatto perdere Insomma Io l'ho seguita E li avevo persi Poi E quindi Mi sono ingrassata troppo Non mi piaccio Non mi sento bene Con me stessa Quando poi Mi devo vestire È una tragedia Adesso anzi L'autunno è la mia stagione preferita Perché sono più coperta Ma non troppo L'estate Veramente mi ha mandato Quest'estate mi ha mandato Un po' in paranoia Ecco Non mi era mai successo Non mi ero mai sentita così Boh Veramente Come ho già detto un altro video Trascinata dagli eventi Non lo so Non è stata Non è giusto che sia così Giusto no Però insomma È così Non è stato un bel periodo Non sarà un bel periodo La mia vita Non è stato Quindi mi sono un po' Dei pomeriggi Ehm Abbiamo svuotato la casa All dance Con le mie amiche Siamo un gruppo di In totale 14 Però noi siamo già Solo noi tipo 6 o 7 Quindi questa cosa Mi piace tanto Ho fatto Il mese di settembre Perché oggi Oggi è 29 Abbiamo fatto 3 lezioni Perché 2 sono state di prova E 3 lezioni vere e proprie Veramente una fatica Ragazzi I primi due giorni Io non Non riuscivo ad alzarmi nemmeno Più che altro Mi fanno male le gambe E adesso che abbiamo iniziato A fare le flessioni Che io non ho mai fatto In vita mia Ma non so Pensavo neanche Di poterne Farne due Invece Certo Con le ginocchia poggiate Per ora Poi piano piano Ci alzeremo Sono riuscita a farne Tipo una ventina quasi Però oggi Sono un po' meglio Ma ieri stavo così Cioè tipo Per guidare Ho appoggiato le mani Non riuscivo più A muoverle dal volante Per capirci Quindi questa è una cosa Molto bella Perché poi è capitata Bene come orari Perché ci vado Lunedì e il mercoledì Alle 7 e 10 di sera Io finisco al centro Che sta praticamente Di fronte Alle 6 e mezza Quindi sto lì Appena vado via dal centro Dal tirocinio Insomma E faccio la mia bella sudatina Ma sudo veramente tanto Facciamo qualche figura al palo Poi piano piano Penso si imparerà qualcosa in più Insomma Quindi questa è una cosa bella Una cosa nuova E mi rende felice Quindi questo Ok Non riesco più neanche a parlare Mentre metto l'eyeliner I wiggly Allora per il momento Gli ho sospesi Perché mi stavano annoiando Cioè Stavano annoiando a me E mi sono detta Pensa loro quanto li annoio E quindi Ho fatto per ora no Perché Il contenuto sarebbe Sempre lo stesso E mi hanno Aiutato tanto Devo essere sincera Nel periodo Ancora più brutto Anche se Non lo so Io mi sento Peggio ora Cioè Non è che mi sento peggio Non so spiegarlo Più che altro Mi sento Su Giù Giù Su Giù Su Giù Giù Ad esempio Mi sono messa a pulire Il sotto del lavandino Dove deniamo tutti i detersivi Mi sono messa lì Tutto sistemato A me far queste cose Ogni tanto serve Perché stacco un po' la spina E E mi serve Piuttosto che magari uscire E andare al bar A prendermi una cosa Con le amiche Che mi fa sempre piacere vedere Per carità Non sto dicendo quello Però alcune volte Ho bisogno un pochino Di stare Stare da sola Quindi poi comunque Si avvicina il weekend Quindi non è che Poi starò solo Anzi Domani già viene corrato Quindi non Non si pone il problema Però non mi ando più Che stavo dicendo Memoria breve Termine E Sulle guanche Solitamente sto usando Questo tris di Di essence Con questo pennello Sfigatissimo E vado a mettere Soprattutto mi piace mettere La parte scura Come blush Perché mi piace il colore Quindi ne metto un po' Anche perché Io non capisco Voi mi vedete Qui Grossissima Ma non sono così rossa Quindi Perché poi sembro Di un altro colore Ma non Non si vede Dal vivo Questa differenza Quindi Tranquille Ci esco Con questo fondotinta Quindi mi vedo A luce del sole Anche perché ormai Sono le Le sette Ma al senso Sono le sette Come vuole il tempo Quando ci si diverte Come rossetto Volevo farvi vedere Sulle labbra Aspettate che mi sposto Un attimo Di qua Questo Ah Mi faccio vedere Quale volete vedere Ho comprato Vabbè Questo Drenix Ve l'ho fatto vedere Il lingerie Non mi fa proprio Impazzire E poi ho comprato Questo Che è sempre Della mia Una tinta labbra Questa è Matte velvet Lacquer Che conosce Questo brand Mi faccia sapere Cosa ne pensa Questo È molto carino Molto tonnale Se tessi sincera M'ero scordata Di averlo comprato Già Perché ho visto Lì Dove sono gli ossetti Ha un buon profumo Però Non riesco a capire Di cosa Niente Registrare questo video Oggi è stata angosciante Perché ho la memoria Del telefono Praticamente piena Quindi mi si blocca Da sola E non me lo fa vedere Quando si blocca Quindi ho tipo Fortunatamente parlato poco Per poco da sola Ma poi me ne sono accorta Quindi questo È il risultato messo Dicevo appunto Che non mi funziona Internet Quindi è un po' casino Adesso devo montarlo Su questo computer Perché qui ho Un programma di montaggio E poi provo a caricarlo Da quello sotto Sperando che funzioni Comunque Spero la prossima settimana Al massimo Di aver risolto tutto E quindi niente ragazzi Grazie per avermi fatto compagnia Spero di Che vi abbia fatto piacere Rivedermi Lo so Leggerò poi i commenti Qui sotto Se ci saranno Vi mando un bacio Ciao ciao